Marcatelo, 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 forza su, non è finita, andiamo, forza Italia, vai Basta, vai avanti, avanza, avanza, pressate, forza, forza, possiamo vincere Sto giocando la finale del campilato nel mondo di calcio, le protagoniste sono Italia e Germania Al 43esimo minuto del primo tempo, il risultato è 2-0 per i tedeschi Forza ragazzi, non potete andare adesso perché l'Italia e i tifosi sono con voi E ricordatevi, tutto, tutto è possibile Ah, questo è il scaccio, se lo trovo dopo il campo, lo rompo Grazie a tutti Mancano 2 minuti al termine della finale e l'Italia è in vantaggio sulla Germania Infatti il risultato è di 3-2 Andiamo, alzati falso Ragazzi, questo simula, dai No, io non mi sono fatto il tempo, tanto da quella calmata No, sbagli Era sbagliato Tu col tempo ragazzi, lui ganna Andiamo Grazie a tutti Forza Italia Forza Italia Campioni del mondo Campioni del mondo Triggiamoci forte, vogliamoci tanto